Rieccoci nello studio della dottoressa Daniela Limonta, la nostra dietologa. Ciao Daniela. Ciao Giulia. Oggi diamo dei consigli ai nostri telespettatori per effettuare la spesa giusta quando si è a dieta. Esatto. Allora, io dico sempre che la sioma numero uno della dietologia dice noi siamo quello che mangiamo. Abbiamo detto tante volte, se mangiamo sano siamo sani, se abbiamo un'alimentazione squilibrata abbiamo più rischi di andare incontro a malattie metaboliche non solo. Quindi per la nostra salute è fondamentale mangiare sano. Se il primo a sioma è noi siamo quello che mangiamo, il secondo a sioma è noi mangiamo quello che compriamo. Perché la dieta deve necessariamente partire dalla spesa. Quindi non parte ai fornelli la dieta, parte prima, il passaggio prima nella spesa. La spesa è fondamentale anche per la buona riuscita di una dieta. Quindi dobbiamo dedicare il tempo necessario per fare una spesa sana. Molte persone quando iniziano una dieta, io chiedo sempre come fanno la spesa, dicono vado, prendo un po' di cose, senza lista, senza organizzazione. Dal momento che si inizia una dieta invece questa organizzazione è fondamentale, perché da questo dipenderà poi la buona riuscita del calo ponderale. La lista la potete fare con carta e penna o con anche delle applicazioni per i più tecnologici, o scrivere sul cellulare, un vocale su WhatsApp, ci sono mille modi, ma la lista è fondamentale. La lista ci guida nella scelta degli alimenti e poi evita gli sprechi. Quante volte senza lista si comprano prodotti perché sono in offerta? I famosi tre per due. Magari pacchetti enormi di biscotti, che sono una delle cinque scelte che faccio a colazione, ne compro tre pacchi. Di quei tre pacchi, uno o due li mangerò, il terzo necessariamente scadrà e finirà nella spazzatura. Ci sono fiorfiore di studi proprio di economia domestica che dimostrano che ogni italiano spreca un sacco di cibo, perché molti cibi rimangono dietro nella dispensa, arrivano a scadenza e vengono letteralmente buttati via. Ed è veramente una cosa terribile. Basterebbe fare la spesa meglio e seguire sempre la lista. Attenzione al dire questa cosa non era presente nella mia dieta, ma la compro per gli ospiti. Questa è una bugia, ma chi volete ingannare? Di sicuro non ingannate me, ma state ingannando voi stessi. Se in una dieta dimagrante le patatine nel sacchetto non ci sono e comprate un bel paccone da 200 grammi di patatine per gli amici se dovessero arrivare per un aperitivo. Capite che è una bugia grandissima, degna di Pinocchio. Se comprate un paccone da 200 grammi di patatine lo mangerete voi. Quindi non è per gli ospiti, non è per gli amici, non è per i nipotini, figli di un amico. Li mangiate voi, voi che siete a dieta, perché prima o poi avrete un momento di crisi che può essere una fame emotiva, ma anche una fame di noia. Uno è in casa, domenica, piove, si va in cucina, si apre la dispensa, quel paccone enorme ci guarda, lo apriremo e ce lo mangeremo. Per poi indurci i sensi di colpa dopo. Oddio, ero a dieta, ho mangiato tutto il pacco di patatine, ecco cosa ho fatto. Tutto era evitabile a monte, dall'inizio evitando l'acquisto di questo sacco di patatine. Ma vale per le patatine, vale per le merendine. Tante donne, nonne magari dicono, io prendo i dolci per i miei nipoti. Poi io chiedo, ma di quelle brioche quanti ne hanno mangiate i suoi nipoti? E loro, occhi bassi, dicono, sinceramente forse ne avrà mangiata una mia nipote, le ho finite tutte io. Quindi sono anche sincere in sede di visita, non compratele, comprate solo quello che è presente nella lista, che ovviamente se siete a dieta dovrà corrispondere a quello che è stato consigliato a dieta. Cercate di comprare sempre cose sane, quindi la frutta e la verdura non devono mai mancare. Delle volte la gente alla sera mangia male, va al take away o si fa una focaccina o un tos, perché davvero non è in casa nulla. Siamo in un mondo dove siamo tutti di corsa, tutti lavorano, tutti hanno poco tempo. E delle volte si mangia male perché non si hanno cose adeguate a casa. Invece la spesa deve diventare un momento importante anche per la nostra salute. Non abbiamo il tempo per farla al supermercato? Ormai la tecnologia ci viene incontro, qui nelle province di Como, di Lecco e di Sondrio esiste proprio il servizio a domicilio, ormai attivato da diverse catene di supermercati. O quello dove online faccio la spesa e vado e ritiro i sacchetti. Sono metodologie molto veloci che possono davvero aiutare a dieta. Se a dieta io passo nella corsia del fresco biscotti, pane e focacce, tutti i miei sensi verranno pervasi dalla vista di queste cose buonissime. L'olfatto dall'odore del pane appena uscito dal forno. È difficile di fronte a queste tentazioni dire no, io sono a dieta, non è scritto nella lista, vado avanti. Davanti al computer se faccio la spesa online è tutto più facile. Prendo esattamente quello che mi serve. Non cadiamo in tentazione. Per chi invece ama fare la spesa col proprio carellino o nel negozio dei alimentari sotto casa, consiglio quello di attenersi alla lista e evitare magari orari pericolosi. Spesso si fa la spesa a rientro a casa, quindi si esce dal lavoro, 5 e mezza, 6, 6 e mezza, dipende degli orari, ci fermiamo, facciamo la spesa e poi ce ne andiamo a casa. Ecco, quello è l'orario peggiore. Allora, approfittate magari dei negozi che sono aperti anche più tardi, fino alle 21, fino alle 22, perché quello è un orario dove si è fisiologicamente in ipoglicemia, perché il pranzo è passato da diverse ore. E magari non abbiamo fatto, non abbiamo tutto tempo di fare lo spuntino pomeridiano. E poi siamo stanchi. Il nostro cervello delle volte decodifica il segnale stanchezza come fame. Quindi entriamo alle 6 e un quarto nel negozietto dei alimentari, dove dobbiamo comprare la pasta integrare, un etto di bresaola, la mia insalatina, vediamo la focaccia e la prima cosa che chiediamo è mi dia mezza porzione, mezza teglia. È una cosa normale, però se sappiamo che succede e tutte le volte si verifica questa cosa, cambiamo orario. Cambiamo orario e evitiamo quello prima dei pasti. Quindi sempre meglio a stomaco pieno. Se poi conosciamo bene il supermercato, possiamo anche capire quali sono le corsie da evitare. Quindi studiare un percorso alternativo senza passare davanti alla corsia delle caramelle, dei dolci, se siamo molto golosi. Daniela, ci hai detto, ricordiamoci di comprare cibi sani, quindi frutta e verdura. Allora, frutta e verdura devono sempre essere presenti, a prescindere. Quindi nella lista della spesa potete già scriverle nelle prime voci. Quindi nella verdura, segnate la verdura fresca. Non avete tempo per la verdura fresca perché avete orari lavorativi allucinanti, tornate a casa stanchi, ricordatevi la verdura surgelata. La verdura surgelata magari come sapore non è paragonabile a quella fresca, ma a livello nutrizionale non manca di nulla. Quindi non abbiamo tempo di comprare lo spinaccio fresco, lavarlo e farlo bollire. Compriamoci lo spinaccio surgelato e questo vale per quasi tutta la verdura. Quando ero piccola io, verdure surgelate ce ne erano di due o tre tipi. Adesso veramente c'è una grande varietà, troviamo di tutto nel reparto surgelati. Questo vale anche per il pesce? Vale anche per il pesce. Io di solito nelle diete dimagranti lo consiglio. E sempre c'è il paziente che mi dice, eh ma non c'è la pescheria, non so dove andare a comprarlo, io abito in una zona pedemontana dove non c'è, compratelo surgelato. È ovvio che il pesce fresco è migliore, ma se non avete la possibilità compratevi quello surgelato. E poi basta dire che il pesce è difficile da cucinarsi perché in forno, con la carta forno, si cucina da solo il pesce. È anche più facile che il petto di pollo che va girato sulla griglia. Il pesce è davvero facilissimo, quindi pesce, frutta e verdura, formaggi freschi, acqua, devono sempre essere presenti in un carrello. Ho detto acqua perché spesso, io sento pazienti che dicono, l'altra sera ho bevuto la Coca-Cola aranciata perché l'acqua era finita. No, dai, l'acqua sia naturale che gassata, non deve mai mancare in una casa, piuttosto l'acqua che esce dal nostro rubinetto è potabile, piuttosto beviamo quella, ma non possiamo sostituirla con le bevande zuccherate ai pasti perché non ha senso. Quindi diamo sempre un occhio al nostro carrello prima di arrivare alla cassa. Ecco, questo è un altro consiglio molto bello. Allora, abbiamo detto, fare una lista. Se proprio non riusciamo a resistere alle tentazioni, facciamo la spesa online. O deleghiamo la spesa ad un'altra persona. Persona fidata, non una persona più volosa di noi che poi torna a casa, tipo il marito con vasi di Nutella o sacchi di caramelle. Quindi, persona fidata. Oppure, se proprio vogliamo farla, armiamoci del tempo necessario. Fare una sorta, io chiamo esami di coscienza, prima di entrare al supermercato. E quindi dire, ok, sono a dieta, devo perdere 12 chili, questa è la mia lista, mi dovrò attenere a questa lista, non devo passare nella corsia 4, nella corsia 5, ma fare quell'altro giro. Poi, quando si entra, si sa come vanno le cose. Magari la motivazione che avevamo fuori tende un po' a diminuire, le cose non vanno proprio per il verso giusto, ma siamo ancora in tempo. Perché quando arriviamo alla cassa con il nostro carrellino, fermiamoci una decina di metri prima e ricontrolliamolo. È finito il pacco grande di patatine che abbiamo detto prima, siamo ancora in tempo a consegnarlo alla cassiera, dicendo me lo può riporre, ho deciso che non lo compro. Daniela, perfetto, grazie mille. Noi ti ringraziamo per averci ospitato per tutti i tuoi preziosi consigli, come sempre. Noi ti ringraziamo per le aff systems che non si vuole.